Mi chiamo Fabrizio Daldi, assieme a mia sorella abbiamo un'azienda agricola in Liguria che è cresciuta nel tempo come superficie. Come formazione ho fatto la scuola di agrare di Sanremo e sono uscito nel 92. Da lì, dopo un anno di militare, ho iniziato a coltivare molto di più di quello che già facevo da quando ero giovane in campagna. A livello di contesto ci troviamo in Liguria, più precisamente a Sanremo. L'azienda che conduco assieme a mia sorella si chiama Daldi Floricoltura SSA. È un'azienda al 90% è indirizzo floricolo, nel senso che facciamo floricolo reciso da composizioni e un 10% di orticoltura che usiamo per noi e ad alcuni clienti che abbiamo. La mia azienda e mia sorella, perché la conduciamo in due titolari, 30 anni fa era composta dalla terra che ci hanno lasciato i nostri genitori, erano 8 mila metri quadrati. Poi siamo andati avanti, abbiamo usato sempre più processi ecologici che hanno portato comunque ottimi risultati e con i guadagni degli anni passati come l'antica concezione contadina, di fare il passo lungo come quello della gamba, con i soldi che abbiamo guadagnato gli anni prima abbiamo ampliato, grazie al fatto che vendevano la terra, l'azienda e siamo passati a 4 ettere di terreno, tutti in un unico corpo qui intorno. L'azienda è fatta al 90% floricola, un 10% orticolo, quindi abbiamo 4 mila metri di orticoltura e il restante è floricoltura recisa, dove abbiamo coltivazioni come filodendri, formium, gelsomini, piante di eucaliptus, da cui facciamo reciso per le composizioni. Subito l'approccio era di agricoltura convenzionale, industriale, perché utilizzavamo concimi di sintesi, coltivazioni fuori suolo perché i terreni erano stanchi ai tempi e pesticidi. Conoscevo quel metodo lì, me l'avevano insegnato anche appena o male a scuola, assieme a un'agronomia corretta di base, ho avuto professori che mi hanno comunque già a scuola trasmesso anche concezioni agronomiche ecologiche sicuramente, però una volta nel mondo del lavoro ho cominciato spruzzando veleni e dando concimi di sintesi alle piante. La cosa non mi è piaciuta già dai primi anni, però lì avevo 19-20 anni, ho iniziato a cercare soluzioni alternative, conoscendo la chimica di sintesi subito sono andato a cercare sostanze chimiche naturali che potessero sostituire concimi e pesticidi. Poi nel tempo, mentre approfondivo quegli studi, perché ho continuato a studiare anche dopo aver finito la scuola di agraria, nonostante non ho fatto l'università di agraria, mi sono approcciato all'agricoltura naturale di Fukuoka, all'agricoltura sinergica, alla permacultura di Bill Mollison, ai microrganismi effettivi di Toruo Iga e per ultimo, quindi una quindicina di anni fa o anche qualcosa di più, ho incontrato l'agricoltura biodinamica, intesa come ciò che nel 1924, in una serie di conferenze, Rudolf Steiner, un grande chimico, ricercatore, filosofo, storico, vissuto a cavallo del 1900, nato nel 1861 e morto nel 1925, comunque nel 1924 ha fatto queste conferenze di Cobberwitz, così chiamate perché si sono tenute nella tenuta del conte Forkaisel, linked a Cobberwitz e Steiner ci ha donato una nuova ottica di vedere l'agricoltura. Dopo aver approcciato queste concezioni, averle fatte mie, metabolizzate, certo che la mia ottica del mondo è molto cambiata e partendo dal concetto di sana agricoltura e sana socialità, quello che mi occupo di fare tutto il giorno è connettermi ad altre persone che hanno questo tipo di visione e nel qual caso abbiano una conoscenza diciamo inferiore a quella che ho raggiunto io, portargli soluzioni che gli possano permettere agevolmente di andare in quella direzione. Quando ai tempi già l'industria diceva che le piante dovevano mangiare sali solubili nella soluzione circolante, lui invece ci ha detto che noi dobbiamo non concentrarsi sulla nutrizione delle piante ma sulla vitalizzazione del terreno, quindi la concimazione in realtà è una vitalizzazione del terreno, cioè portare forze vitali. Adesso se prendiamo in considerazione la scienza come esclusiva chimica, queste cose non le capiamo, ma già se nella scienza contempliamo il fatto che esiste la microbiologia ed esiste la fisica, noi al giorno d'oggi abbiamo le spiegazioni del perché ciò che lui diceva, anche se ci sembrava strano, funziona, perché quello che lui ci ha detto funziona alla grande. Le preparazioni le facciamo noi in campagna con grossissimi vantaggi, sono tutte assolutamente sostenibili dall'ambiente ma non solo, bonificano ambienti inquinati, fare agricoltura biodinamica è una metodica che ci permette di avere coltivazioni eccezionali, quantità adeguate, non minori di quelle di un convenzionale e in più una bonifica dell'ambiente nel caso si è inquinato. Ho ottenuto nell'ultima decina di anni corsi di formazione, dopo averne seguiti, ma continuo a seguire a corsi di formazione perché non si smette mai di imparare ed è giusto così, però tenendo corsi ci sono stati corsisti che mi hanno chiesto poi di tre anni fa di andare a dare indicazioni direttamente nella loro azienda e da lì è partita una mia attività di consulenza che tre anni fa è partita con due aziende, due anni fa per passaparola sono diventate 7, 8, 10 e l'anno prossimo saranno tante di più. Tendenzialmente mi chiamano biologici, però ho anche aziende convenzionali che hanno un'ottica che vogliono uscire dai guai in cui sono inseriti, perché non è che fare agricoltura utilizzando veleni e concimi di sintesi o antibiotici in caso degli allevamenti non porta a cattive conseguenze, anche loro stanno arrivando ad avere dissecamenti di kiwi, di meli, mortalità nelle stalle problemi che non riescono più a risolvere, perché non è l'approccio corretto quello di spruzzare o utilizzare sostanze che uccidono, noi dovremmo avere un approccio dove andiamo a inserire forze o sostanze nell'ambiente che modificano i processi, ad esempio quello di marciscienza che diventi un processo di decomposizione e noi questo lo possiamo fare, perché uccidi, uccidi, uccidi e alla fine si selezionano microrganismi che non vengono uccisi più da nulla e dal quale non ti salvi più, quindi anche i convenzionali si stanno accorgendo che quel sistema non funziona più e porta grossi guai. Diciamo per portare soluzioni ecologiche in aziende, che possono essere zootecniche o agricole di vario genere, dobbiamo partire magari per compiere il funzionamento dall'etimologia della parola ecologico, che deriva da oikos, cioè l'ambiente in cui vivi, e logia è lo studio, quindi soluzioni, cioè portiamo a casa il risultato con un'approfondita osservazione del mondo che ci circonda, il mondo naturale. A questo tipo di visione, se uno la approccia con mancanza di pregiudizio e amore per la conoscenza che sono necessari, ci si accorge è che siamo legati, tutto è legato a tutto in campagna, negli allevamenti, cioè Rudolf Steiner ci ha detto giustamente che un'azienda agricola dovrebbe implementare sicuramente l'allevamento animale, ma perché l'animale trasforma, nutriendosene, in cibo per la terra, il cibo di cui si nutre. Ad esempio la vacca, che è considerata un animale sacro in certi posti, è sacro davvero, nel senso che dovremmo averla nelle aziende, perché quando lei si nutre di quell'erba, moltiplica almeno per 4, per dire, il valore nutritivo di quell'erba, se fosse compostata naturalmente. La visione biodinamica di un'azienda contempla ciò che si vede e ciò che non si vede, cioè ciò che è sensibile e ciò che è sovrasensibile, perché per la normale concezione che hanno le persone e gli agricoltori, già i microorganismi in natura sono qualcosa che non viene quasi mai preso in considerazione, per carità, adesso c'è l'agricoltura simbiotica che prende in considerazione anche quelli, però chi spruzza veleni e pesticidi in campagna, uccide una microbiologia perché non la vede e quella mancanza di microbiologia è un pochettino come una persona quando prende gli antibiotici che poi deve inserire fermenti lattici, allora non è meglio non uccidere nessuno e influenzare ciò che si vede e ciò che non si vede in modo che tutto funzioni al 100%? Perché l'idea darwiniana della competizione in effetti è errata, perché se noi siamo qui al giorno d'oggi è per una questione di una collaborazione, noi siamo fatti nel 99% il numero di molecole di acqua, ma quanti lo sanno? E noi abbiamo una quantità di microorganismi nel nostro corpo che sono superiori al numero di cellule del nostro corpo e in quanti se ne rendono conto? E in campagna questo viene moltiplicato in maniera esponenziale, per cui per riuscire a portare a casa una produzione noi dobbiamo prendere in considerazione tutte le branche della scienza, la chimica, dividendola fra chimica industriale di sintesi e chimica naturale, la microbiologia e la fisica al giorno d'oggi. Quello che Rudolf Steiner ha detto nelle conferenze che ha fatto per 25 anni, noi lo possiamo contestualizzare al giorno d'oggi grazie alle scoperte della fisica ad esempio. Lui diceva che gli esseri viventi hanno un corpo delle forze formatrici, in fisica esiste il concetto e la realtà dei campi morfogenetici. Quindi se vogliamo avere un'attenzione con mancanza di pregiudizio e amore per la conoscenza a queste cose noi capiamo che tutto è collegato. Rudolf Steiner ci ha anche spiegato la differenza che c'è fra un minerale, una pianta, un animale e un uomo e una donna. Sempre con una visione allargata del concetto è senza pregiudizio, la suddivisa in queste differenze. Un corpo minerale ha un corpo fisico, come lo hanno anche le piante, gli animali e l'uomo. Però che differenza c'è fra una pietra e una pianta ad esempio? La pianta cresce e si sviluppa. Chi è che fa in modo che questo avvenga? La pianta ha un corpo vitale, Steiner lo ha anche chiamato corpo delle forze formatrici ed è quell'insieme di processi elettromagnetici e di campi morfogenetici cosiddetti dalla fisica che permette a noi di avere una fisiologia, così alle piante o agli animali. Poi c'è un'ulteriore differenza fra le piante e gli animali perché gli animali come insegnava Rudolf Steiner hanno un corpo astrale, un corpo animico, cioè un'anima delle brame, delle pulsioni, degli istinti, dei sentimenti. Che differenza c'è ancora in più tra un animale e un essere umano? Un uomo o una donna? L'uomo in più ha l'io, l'autocoscienza, cioè l'uomo si rende conto delle cose che succedono. Un animale riceve delle pulsioni dall'ambiente esterno e reagisce secondo un software precaricato. Noi ci possiamo rendere conto di ciò che succede intorno, sempre che lo vogliamo, sempre che ci rendiamo conto della responsabilità che abbiamo addosso. Perché più uno è abile a fare cose e non più ha diritti, più ha responsabilità. Allora l'uomo dovrebbe avere la responsabilità di condurre le sue attività nel mondo in modo che siano sostenibili per tutti, per le piante, per gli animali e per gli altri uomini. Rudolf Steiner faceva presente che non ci può essere sana agricoltura se non c'è una sana socialità. Noi abbiamo bisogno di produrre cibo sano e partendo dall'inquinamento a cui siamo soggetti nel mondo non è neanche semplice passare da un'agricoltura convenzionale a una biologica portando a casa risultato o da una biologica a una biodinamica. Però grazie alle scoperte nei vari ambiti della scienza noi attraverso i preparati biodinamici, la gestione dell'informazione come quella della biorisonanza, l'omeopatia e ad altre concezioni naturali possiamo portare a soluzioni che facciano in modo che un agricoltore, un allevatore ottenga risultati eccezionali in breve tempo. Cioè la natura bonifica il mondo, è l'azione dell'uomo sconsiderata quando l'uomo pensa di essere un padrone piuttosto che avere la responsabilità del buon padre di famiglia a questo mondo che crea disastri. Noi possiamo fare invece, invertire questi processi, portare una bonifica dell'ambiente oltre che produzioni sane e come diceva Zaratustra noi dobbiamo nutrirci delle piante perché le piante hanno immagazzinato l'energia del sole e quell'energia del sole va a nutrire oltre al nostro corpo a livello energetico, ci dà energia, ma nutre il pensiero, un pensiero vivente. Noi quello dobbiamo sviluppare, il pensiero vivente, il rendersi conto del mondo. Allora la biodinamica è una metodica agricola piuttosto semplice da praticare, magari è un po' più difficile da comprendere. Primo perché il linguaggio utilizzato da Steiner di cento anni fa in Germania non è così affine a noi, però con una piccola traduzione, diciamo, fatta da persone che già la praticano e magari vedendola sul posto si scopre che noi possiamo utilizzare delle sostanze presenti in natura, trasformarle in modo che queste portino un effetto biologico positivo sull'ambiente, cioè facciano crescere bene le piante sane e senza parassiti, dove la malattia è una rara eccezione. La peculiarità della biodinamica è il fatto che Steiner ci ha insegnato come usare poca sostanza e tanta informazione. Quindi anche a quelli che gli sembra strano che funzioni al corno letame, in realtà è un'operazione geniale perché noi mettiamo quell'etame di vacca che per avere un effetto fertilizzante sul suolo, se utilizzato ponderalmente, richiederebbe per dire 200 quintali in un ettaro. Invece noi con un chilo e mezzo di letame preparato che è diventato corno letame in un anno, noi portiamo quell'effetto di fertilità. Quindi se è una facilità per l'agricoltore, questo sfrutta leggi naturali, le leggi dell'informazione. Come la gente vede questa intervista attraverso un video, dove c'è il video e l'audio trasmesso in maniera digitale o analogica a quello che sia, ma quell'informazione noi non la vediamo se non ci fosse un apparecchio televisivo che la riceve. Gli esseri viventi sono apparecchi non televisivi, ma che possono ricevere informazioni che gli indottrinano e che gli indirizzano le reazioni biochimiche. E quei preparati fanno sì che ad esempio il corno letame abbia un'azione sul terreno, utilizzato correttamente, ma è semplice usarlo correttamente, basta avere appunto non pregiudizio e amore per la conoscenza e passione, facciamo in modo che nel terreno si sviluppi la microbiologia corretta e si sleghino sostanze che sono state trattenute magari dal potere assorbente del terreno. Quindi diamo la possibilità della microbiologia alla chimica di lavorare al meglio. Le piante non sono fatte per assorbire direttamente il minerale del terreno, c'è il tramite della diciamo flora batterica radicale, come noi abbiamo la flora batterica intestinale, che fa sì che loro passino le sostanze minerali grezze attraverso il metabolismo di batteri o funghi che ampliano molto l'apparato radicale, i batteri poi le donano alle piante, viene trasmessa attraverso la linfa aziendente nelle foglie il minerale grezzo, nelle foglie avviene la fotosintesi che è un processo energetico perché oltre al minerale e all'acqua, dall'aria la pianta assorbe CO2 che è un gas, prendiamolo in considerazione, e assorbe energia luminosa col quale crea molecole complesse. Le molecole complesse poi si distribuiscono all'interno della pianta, vengono donate anche i microrganismi radicali che con un processo di simbiosi se ne nutrono e quindi noi vediamo un sistema complesso di reazioni dove è tutto sostenibile, è tutta una crescita, le stesse piante una volta morte con il processo del carbonio vengono trasformate in nutrimento attraverso il passaggio in microrganismi saprofiti, funghi e batteri che trasformano la sostanza organica morta in nutrimento per quelle vive. Però questi processi noi li abbiamo davanti agli occhi, dobbiamo rendercene conto che in certi casi però sono invisibili perché i microrganismi non li vediamo, ma come diceva un altro grande personaggio del passato che aveva una grande percezione, Johan Wolfgang Goethe, non c'è niente di più difficile che vedere con gli occhi ciò che davanti agli occhi sta. Quindi soluzioni ecologiche derivano da una approfondita conoscenza della natura dove c'è vera scienza, dove non c'è pregiudizio, non si può partire con un pregiudizio perché la scienza indaga ciò che ancora non sa e noi invece ci passano la scienza come quella che è la scienza delle certezze, ma uno scienziato che ha certezze ha smesso di fare il suo lavoro. Allora, le persone che si approcciano a queste tematiche e vogliono cercare queste strade devono avere una particolare percezione del mondo perché se pensano che la chimica a questo mondo sia l'unica via della scienza non gli si può andare a spiegare questi concetti, no? Però ci sono persone, conoscendo la natura, dobbiamo avere una adeguata conoscenza della natura, però sul Tempio di Menfi in passato c'era un monito che è conosci te stesso, quindi bisogna guardare il mondo fuori ma anche il mondo dentro di noi, capire come eravamo magari 10, 20, 30 anni fa, ricordarcelo. Ci sono persone che hanno minor pregiudizio, persone che hanno più pregiudizio, persone che masticano alcuni argomenti, persone che invece altri argomenti non li masticano. Allora, qual è il segreto delle persone che si approcciano a me e come devo fare io per riuscire a farmi capire? È importante, secondo me, trovare le chiavi di lettura giuste che sono per ogni persona diverse. Bisognerebbe cercare di parlare la stessa lingua di chi hai davanti e questo lo puoi fare se hai una grande esperienza e se prendi in considerazione la natura umana. Allora, la biodinamica è una metodica agricola piuttosto semplice da praticare, magari un po' più difficile da comprendere. Primo perché il linguaggio utilizzato da Steiner di 100 anni fa in Germania non è così affine a noi, però con una piccola traduzione, diciamo, fatta da persone che già la praticano, no? E magari vedendola sul posto si scopre che noi possiamo utilizzare delle sostanze presenti in natura, trasformarle in modo che queste portino un effetto biologico positivo sull'ambiente, cioè facciano crescere bene le piante sane e senza parassiti, dove la malattia è una rara eccezione. La peculiarità della biodinamica è il fatto che Steiner ci ha insegnato come usare poca sostanza e tanta informazione. Quindi anche a quelli che gli sembra strano che funzioni al corno letame, in realtà è un'operazione geniale, perché noi mettiamo quell'etame di vacca che per avere un effetto fertilizzante sul suolo, se utilizzato ponderalmente, richiederebbe per dire 200 quintali in un ettaro. Invece noi con un chilo e mezzo di letame preparato che è diventato corno letame in un anno, noi portiamo quell'effetto di fertilità. Quindi se è una facilità per l'agricoltore, no? Questo sfrutta leggi naturali, le leggi dell'informazione. Come la gente vede questa intervista attraverso un video, dove c'è il video e l'audio trasmesso in maniera digitale o analogica a quello che sia, ma quell'informazione noi non la vediamo se non ci fosse un apparecchio televisivo che la riceve, no? Ebbè, gli esseri viventi sono apparecchi, non televisivi, ma che possono ricevere informazioni che gli indottrinano e che gli indirizzano le reazioni biochimiche e quei preparati fanno sì che, ad esempio, il corno letame abbia un'azione sul terreno utilizzato correttamente, ma è semplice usarlo correttamente, basta avere appunto non pregiudizio e amore per la conoscenza e passione, facciamo in modo che nel terreno si sviluppi la microbiologia corretta e si sleghino sostanze che sono state trattenute magari dal potere assorbente del terreno. Quindi diamo la possibilità della microbiologia, la chimica, di lavorare al meglio. Le piante non sono fatte per assorbire direttamente il minerale del terreno. C'è il tramite della, diciamo, flora batterica radicale, come noi abbiamo la flora batterica intestinale, che fa sì che loro passino le sostanze minerali grezze attraverso il metabolismo di batteri o funghi che ampliano molto l'apparato radicale. I batteri poi le donano alle piante, viene trasmessa attraverso la linfa accendente nelle foglie il minerale grezzo. Nelle foglie avviene la fotosintesi che è un processo energetico, perché oltre al minerale e all'acqua, dall'aria la pianta assorbe il CO2 che è un gas, prendiamolo in considerazione, e assorbe energia luminosa col quale crea molecole complesse. Le molecole complesse poi si distribuiscono all'interno della pianta, vengono donate anche i microrganismi radicali che con un processo di simbiosi se ne nutrono e quindi noi vediamo un sistema complesso di reazioni dove è tutto sostenibile, è tutta una crescita. Le stesse piante una volta morte, con il processo del carbonio, vengono trasformate in nutrimento attraverso il passaggio in microrganismi saprofiti, funghi o batteri, che trasformano la sostanza organica morta in nutrimento per quelle vive. Però questi processi noi li abbiamo davanti agli occhi, dobbiamo rendercene conto che in certi casi però sono invisibili, perché i microrganismi non li vediamo, ma come diceva un altro grande personaggio del passato che aveva una grande percezione, Johann Wolfgang Goethe, non c'è niente di più difficile che vedere con gli occhi ciò che davanti agli occhi sta. Quindi soluzioni ecologiche derivano da una approfondita conoscenza della natura, dove c'è vera scienza, dove non c'è pregiudizio, non si può partire con un pregiudizio, perché la scienza indaga ciò che ancora non sa, e noi invece ci passano la scienza come quella che è la scienza delle certezze, ma uno scienziato che ha certezze ha smesso di fare il suo lavoro. Ci sono molti luoghi comuni sulla biodinamica, giustamente, ma noi viviamo in una società dove la gente è abituata a parlare esclusivamente di chimica e chimica di sintesi, perché già gente, come abitudine generale, poi c'è chi si rivolge ad esempio alle erboristerie e ottiene vantaggi notevoli, perché le piante hanno dentro dei fitocomplessi che curano le persone. Chi si è rivolto ad esempio all'omeopatia verificandone i risultati positivi, gli puoi andare a dire quello che vuoi sulla chimica, ma non torna più indietro a utilizzare le medicine che hanno un sacco di controindicazioni. Quindi dipende dalle esperienze che le persone vogliono fare. Persone con pregiudizio al giorno d'oggi, siccome ci sono interessi industriali forti, a che la gente capisca solo di chimica, di sintesi, non riusciranno ad approcciarsi a queste conoscenze. Però persone più evolute, che hanno percezioni e sensibilità più elevate, quando ci si approcciano vedono che funzionano, perché funzionano alla grande. Il problema è l'indottrinamento generale su sta chimica di sintesi, dove al mondo sembra che esista solo quello, le fabbriche che fanno agrofarmaci o farmaci, quando in realtà diciamo che la conoscenza dei nostri nonni è rimasta un po' come poesia nelle nostre teste. Ma se uno fa le prove sul calendario bidinamico, anche solo di trapianto, vede che ci sono, è facilissimo vedere che ci sono 14 giorni in cui questo trapianto è facilitato e 14 giorni dove questo trapianto è un po' più difficile. Quindi con la giusta approccia, con il giusto a chiave di lettura, alla gente gli si può far vedere in campo che funzionano questi concetti. La differenza principale fra biologico e biodinamico è che nel biologico non si utilizzano concezioni di fisica. Praticamente si sostituiscono, ben venga, molecole di sintesi con molecole naturali, concezioni agronomiche con lavorazioni dove si rivolta molto il terreno con invece concezioni dove il terreno si fanno lavorazioni superficiali come sarebbe giusto anche fossero. Nel biologico c'è un'attenzione quindi non si usano diserbanti. Nel biologico bisogna fare attenzione perché comunque un po' di rame e di zolfo si usa e se noi parliamo di microbiologia bisogna fare attenzione perché con il rame uccidiamo, con un effetto di accumulo sul terreno batteri e con lo zolfo uccidiamo funghi utili. Quindi anche il biologico è un ottimo approccio, può essere un passaggio, ma secondo me al giorno d'oggi è facile fare un passo oltre e cercare delle strategie che si possono fare derivate da una ancora più approfondita conoscenza della natura, sempre senza pregiudizio, che ti permettono di non utilizzare neanche più rame in campagna o lo zolfo e portare a casa la produzione. In agricoltura naturale non necessariamente si parla di biodinamica ma sicuramente è coinvolta anche la biodinamica. Diciamo l'agroecologia è l'agricoltura che deriva da una approfondita conoscenza della natura, come dicevamo prima. Dipende dal livello di conoscenza ed è naturale che uno più la approfondisce, più esperimenta e più vede gli effetti e più vai verso un'agricoltura di tipo biodinamico. Ecco, in tanti casi è assolutamente consigliabile fare diversi corsi, ad esempio ascoltare dalle voci di chi ha esperienza, mai neanche da uno solo, concezioni, magari più che leggerle su un libro. Va bene la lettura ma ci vuole anche l'esperienza pratica, fare corsi dove ti fanno vedere ciò che ti dicono. La biorisonanza è una concezione, è una pratica che non è prettamente biodinamica, comunque è un sistema per maneggiare le frequenze di cui è fatto un essere vivente, appunto perché l'essere vivente è costituito quasi completamente da molecole di acqua, nel 99% il numero, che è un'acqua che contiene informazioni, secondo dei domini di coerenza, come spiegava Emilio del Giudice, e che influenza le reazioni biochimiche dell'organismo. Attraverso un macchinario che è stato inventato da un medico e da un ingegnere tedesco, Franz Morel ed Eric Rasche, nel 1978, possiamo utilizzare questo macchinario per rifasare un individuo che è fuori fase. Un po' come avviene col segnale sempre audiovisivo che noi utilizziamo per vedere video a distanza o ad ascoltare audio. I concetti sono bene o male sempre quelli. Noi siamo un complesso di impulsi elettromagnetici, di campi elettromagnetici che dialogano fra di loro e che gestiscono la vitalità di un'essere vivente. Attraverso questo macchinario è molto semplice e facile copiare frequenze, bonificarle e restituirle, ad esempio, in agricoltura. Allora, nella mia esperienza di vita, sono passato da fare il contadino e approfondire questi temi con esperienza in campo nella mia azienda, a fare il consulente, portare soluzioni ecologiche. Naturalmente quella della consulenza nelle aziende è un processo in cui sono ancora lì, che devo imparare anch'io. Nel senso che in azienda da me, dopo anni e anni di pratiche ecologiche fatte, ho ottenuto risultati dove la malattia è una rara eccezione, le piante lavorano benissimo, le produzioni sono eccezionali. Quando si entra in un'azienda che non è la mia, sto facendo anch'io esperienza, 8-9 volte su 10 funziona alla prima e porto risultato, quella volta o 2 su 10 è tutta salute, nel senso che quando si trova una difficoltà e la si approccia con metodo e la superi, tu porti avanti la tua conoscenza. Quindi sto cercando di imparare anche come portare soluzioni nell'azienda di fuori. Siamo all'inizio, portare biodinamica e maneggiamenti di frequenze, diciamo, nell'azienda esterne è una cosa che è proprio per me una cosa nuova. Ho iniziato circa 3 anni fa, però partendo da due aziende, l'anno dopo sono diventate col passaparola 7-8 e l'anno dopo sono aumentate ancora a 15-20. L'anno prossimo speriamo di stare dietro a tutto. Comunque mi faccio aiutare da anche amici agronomi, anche che sono stati i miei corsisti, con cui abbiamo un ottimo rapporto, che hanno percezione notevole del mondo, sensibilità corretta, per cui l'avventura si sta ampliando con persone che mi danno molti stimoli, perché frequentare della bella gente rende piacevole anche un'attività lavorativa difficile dove non si sa dove vado a parare, ma comunque sia sono in buona compagnia. La biodinamica naturalmente può essere applicata anche a piccole realtà come orti, orti giardini. Io la faccio anche nei giardini dove c'è verno ornamentale, perché i processi di nutrizione che si vanno ad influenzare beneficamente portano il nutrimento alle piante in ogni caso. Abbiamo detto che col corno letame portiamo vitalità e concimiamo il terreno, in modo che quando quella pianta viene inserita in quel terreno possa assorbire tanto nutrimento. Con l'argilla facciamo in modo che questo nutrimento venga portato nella parte epigea della pianta, dove avviene il processo di fotosintesi che viene stimolato dal corno silice e si produce un'ottima, grande quantità di molecole complesse nutrienti, sia per la pianta che per chi se ne ciba. Implementiamo il processo del carbonio anche, lo si può utilizzare sia in grosse estensioni che su piccole estensioni, cioè il compostaggio anche in un orto o in un giardino è assolutamente auspicabile. Lo si può fare anche in permacoltura, in agricoltura sinergica ci sono questi processi. Quindi l'importante è utilizzare dei processi che trasformino le sostanze in nutrimento. La sostanza organica morta deve essere trasformata in nutrimento per gli esseri viventi. Quindi qualsiasi tecnica va bene, è che ci sono tecniche più efficaci e tecniche magari meno efficaci. Utilizzando l'informazione l'efficacia si moltiplica parecchio. L'Italia che cambia per me è un'Italia con una concezione sempre più ecologica del mondo. Un'Italia che si renda conto del fatto che questo mondo se continuiamo ad inquinarlo con molecole di sintesi lo stiamo bruciando. A giugno studi ci dicono che abbiamo già finito le risorse rinnovabili del pianeta. Un'Italia di artisti, di poeti, di filosofi, di gente con una concezione assolutamente eccezionale, deve essere un'Italia che per il futuro sviluppi queste doti innate, soprattutto nel settore agricolo e dell'allevamento quindi, che è fondamentale per il benessere dell'uomo nel futuro, per i decenni futuri. O modifichiamo il modo di fare agricoltura e allevamento o se no queste risorse rinnovabili finiranno a maggio, finiranno ad aprile e alla fine ci bruciamo il mondo dove vogliamo andare.